Ciao, sono Francesco, un allievo della classe di trombone del maestro Bascapè del Conservatorio di Milano. Volevo ringraziare l'Unione degli Artigiani per averci permesso di suonare questa sera qua in metro a Milano e volevo ringraziare anche il Conservatorio, in particolar modo il maestro Sabatani perché è lui che ci ha contattato per creare questo spettacolo. Noi stasera presenteremo dei pezzi che vanno dal jazz del primo novecento fino a pezzi jazz un po' più moderni e lo spettacolo che presenteremo stasera verrà replicato anche domani. Grazie, buon ascolto. Bene, ora io vi invito a un piccolo esercizio di fantasia perché d'altronde come sappiamo la musica deve nasce più e tutto da una fantasia interna, nasce dall'anima. Quindi come esperimento vi invito a dimenticarvi un po' del freddo di questa via, ma del calore con cui c'è il geofono nei nostri artigiani e di medesiarvi pian piano in un ritmo quasi sexy, direi. Immaginiamo di stare a Gianluzio. Io ne so, ma io ho una bella baia. Voglio arrivare con un drink? Perché no, con una bella panciulla a fianco. E quindi, i medesiarvi da oggi. E quindi, i medesiarvi da oggi. E quindi, i medesiarvi da oggi E quindi, i medesiarvi da oggi. E quindi, i medesiarvi da oggi. E quindi, i medesiarvi da oggi. l'uso è il mondo dell'anima e quindi ora vi presenteremo speriamo non un muro però magari un'avventura in questo migliore signore dai noto di Pramas sempre come tu